Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Continuano i nostri incontri con i consiglieri regionali abruzzesi eletti nella dodicesima legislatura che inizierà la prossima settimana o quella ancora successiva, a seconda dei tempi di composizione della Giunta, che appunto verranno definiti proprio in queste ore. Sta di fatto che è una consigliatura all'insegna di un risultato elettorale che ha visto la riconferma di Marco Marsilio sullo sfidante Luciano D'Amico. Un esito elettorale ormai a oltre due settimane può essere commentato un po' più a freddo e lo facciamo con Francesco Taglieri che ha raccolto il nostro invito e che salutiamo ospite nei nostri studi. Buonasera, già capogruppo del Movimento 5 Stelle nella consigliatura precedente, ora uno dei due eletti con pagina pentastellata che si è ridotta di molto rispetto alla precedente legislatura. Intanto partiamo da una riflessione sul risultato elettorale che non è positivo, dal resto anche lo stesso coordinatore regionale con le sue dimissioni, vale a dire Gianluca Castaldi, ha sottolineato che le cose non sono andate così come ipotizzate, così come nelle vostre previsioni. Adesso dopo oltre due settimane è possibile dare una risposta più articolata rispetto al perché Taglieri? Sì, sicuramente ci sono tante cose e tante riflessioni da fare. La prima è quella di un Movimento 5 Stelle che dopo diversi anni si è presentato in una coalizione allargata, in un campo largo, in un progetto dove il Movimento avrebbe mantenuto sostanzialmente la sua identità. Un progetto che è nato lo scorso anno sui tavoli dove ha visto come protagonista il professor D'Amico, progetto nel quale noi abbiamo creduto più per contenuti che naturalmente per quello che poteva essere il cosiddetto campo largo o forse anche troppo largo. Ma il tema non era questo, era sicuramente la voglia di raccogliere le istanze, le criticità e le esigenze dei cittadini abruzzesi, la voglia di trovare delle soluzioni e di dare delle risposte a una cittadina pubblica sempre più in difficoltà, a un mondo giovanile che guarda ad altre regioni, lavoro, formazione, sociale, trasporti. Ecco, noi ancora oggi, anche per il ruolo che ci è stato dato agli abruzzesi, continueremo a portare avanti queste tematiche perché sono queste le stanze di cui hanno necessità e bisogno i cittadini abruzzesi. Sicuramente l'astenzionismo non ci ha premiato, sicuramente parte del nostro elettorato forse non ci ha riconosciuto in questo campo largo, in questa coalizione così allargata o forse noi non siamo stati abbastanza bravi a comunicare poi effettivamente qual era l'obiettivo. Poco tempo? Può anche essere che il tempo sia stato poco, può anche essere che non siamo riusciti a trasmetterlo, sta il fatto che quando un astenzionismo così importante in un'elezione a competizione regionale come quella del 10 marzo si vede un abruzzese sì e un abruzzese no decidere di non votare è sicuramente un fallimento di tutta la politica, sia di maggioranza che di minoranza. Ecco, c'è anche un tema specifico del Movimento 5 Stelle, lei ha avuto una grande visibilità nella legislatura che si è conclusa, è stato capogruppo, protagonista di tante battaglie in aula, insomma riconosciuto, lo testimoniano anche le preferenze dal suo elettorato, però è indubbio che ci sia un problema di ricambio dopo due legislature per il particolare meccanismo di regole interne che vi siete dati, è anche una difficoltà nel far conoscere la lista sul territorio, questo si sconta mi pare soprattutto in elezioni che sono molto più vicine alle comunali come meccanismo quello delle preferenze, indubbiamente vi penalizza, c'è qualcosa da cambiare, questa riflessione sull'Abruzzo può anche avere una ripercussione sulle vostre riflessioni in ambito generale per il futuro del Movimento? Sicuramente ci sono delle considerazioni che vanno fatte, uno noi abbiamo sempre sofferto in questo tipo di competizioni perché siamo strutturalmente deboli a differenza di quello che ha fatto benissimo il segretario Marsiglio in questi anni dove si è ben strutturato con Fratelli d'Italia, basta vedere la Roccaforte nella provincia dell'Aquila dove il risultato a differenza di altre province come Chieti, Teramo, Pescara, ad esempio su Chieti siamo difesi abbastanza bene mentre sull'Aquila è stata veramente una sconfitta e in alcune realtà dell'Aquila è stata veramente una sconfitta questo ci fa comprendere che sicuramente abbiamo bisogno di strutturarci diversamente sui territori ci fa comprendere che una competizione dove c'è necessità di preferenze, di persone che prendono le preferenze lasciare a casa campioni di preferenze come il collega Pettinari sicuramente non è una cosa lungimirante in politica e così come altre persone, sicuramente questo tipo di temi vanno affrontati a stretto giro perché poi paghiamo e paghiamo con un minor numero di rappresentanti nonostante il lavoro fatto in questi ultimi 10 anni così come paghiamo con una perdita del know-how importante che oggi in politica sicuramente una classe dirigente capace naturalmente di portare le stanze degli abruzzesi ci deve essere deve essere formata e non può essere abbandonata Adesso c'è un tema che riguarda soprattutto il futuro perché lo accennava marginalmente lei per rispondere alla mia prima domanda il campo cosiddetto largo ha mostrato una certa fragilità legata soprattutto più che al territorio sulle diatribe nazionali tra i leader delle forze che lo hanno messo su c'è però un valore aggiunto che è quello di Luciano D'Amico su questo territorio si tratta di capire, questa domanda l'ho fatta a molti, dello schieramento di Luciano D'Amico la farò presto anche a lui se in questa legislatura questa coalizione elettorale diventerà anche una solida coalizione politica attorno ad una leadership politica riconosciuta che Luciano D'Amico per quanto sia stato un grande competente, un grande manager, un grande intellettuale anche un grande uomo capace di trascinare consenso non ha mai esercitato si tratta di fare questo salto di qualità, di far valere una leadership politica in questo vostro progetto del patto per l'Abruzzo Sicuramente vale lo stesso discorso che ci ha portato a creare un progetto alternativo al governatore Marsiglio oggi abbiamo una persona in più che è il professor D'Amico che sarà seduto con noi insieme a quei banchi insieme a lui ma insieme immagino a tutte le opposizioni o a tutte le persone che continueranno a portare avanti queste battaglie un'idea è buona e buona sempre noi anche nella precedente legislatura abbiamo votato progetti di legge anche della maggioranza se erano progetti di legge che avevano un impatto positivo sul territorio e sui nostri territori un po' meno quando poi si mettono in campo quei meccanismi, quel campanilismo che non tanto piace e nel quale abbiamo spesso contrastato negli ultimi anni anche in maniera molto molto dura io sono convinto che quelle idee, quel progetto, quel lavoro fatto possa trovare continuità possa essere una valida alternativa lo possiamo fare con competenze specifiche come quelle che ha il professor D'Amico ma non soltanto il professor D'Amico perché insieme a noi ci sono tante altre persone che sono state rielette e su quelle quali sono convinto che si può lavorare e si può lavorare bene Invece dando uno sguardo alle prime mosse del riconfermato presidente Marsiglio qual è il suo giudizio sulle indiscrezioni? Al momento sono solo tali riguardanti la nuova giunta che poi tanto nuova non sarà almeno in molti posti chiave secondo quello che sta emergendo anche insomma, ripeto, dagli incontri di questi giorni, di queste ore e da ciò che trapela circa i possibili candidati al ruolo di assessori Ma la giunta viene disegnata da quello che sono le preferenze e quindi dagli abruzzesi, da chi ha votato e da chi ha scelto di voler essere maggiormente rappresentato Il governatore, il presidente Marsiglio, aveva detto nottetempo che era pronto che sarebbe partito già dall'indomani, subito siamo a circa un mese dal voto e sembra che sia ancora lontano il primo consiglio fortuna che ci sono dei termini massimi quindi entro i 20 giorni dalla nomina perché ancora una volta si dimostra poco interesse a quelle che sono le criticità, le stanze, i problemi degli abruzzesi e molto interesse a quelle che sono naturalmente le dinamiche interne e partitiche una coalizione che ancora una volta si dimostra debole e che hanno poche visioni o idee comuni o quantomeno soluzioni per risolvere le tante criticità che attanagliano la quotidianità degli abruzzesi Ecco, per esempio la stupisce la voce molto insistente di una possibile riconferma di Nicoletta Veria alla sanità pur non essendo stata rieletta? No, nella maniera più assoluta perché abbiamo denunciato per anni il disastro di questa sanità pubblica e sono convinto che i neoeletti campioni anche di preferenze non hanno nessuna intenzione o voglia di risolvere tante criticità messe in campo da quello che è un modello abruzzo disegnato dalla Veri e quindi Marsiglio si troverà costretto a portare avanti ancora quel modello o quella rete incompatibile con le esigenze reali degli abruzzesi e soltanto attraverso la Veri può continuare a mantenere una non soluzione alle problematiche della sanità pubblica Quali saranno invece le priorità di questa legislatura? Quali dovranno essere secondo voi? Anche dando seguito a idee che sono scaturite nella vostra precedente esperienza anche facevo riferimento a leggi che sono passate all'unanimità proposte da consiglieri del Movimento 5 Stelle Quale impronta volete dare? Voi come gruppo consigliare anche se ridotto e soprattutto qual è il tipo di soluzioni a problemi generali che vivono gli abruzzesi che metterete in agenda? Sicuramente la prima è quella di ridurre o quantomeno cercare la miglior soluzione per ridurre queste infinite liste di attesa dare un'identità alle strutture ospedaliere transizione digitale transizione ecologica soprattutto per la produzione di quella che è l'energia sicuramente lavoro e politiche giovanili del lavoro formazione nel lavoro quindi ascoltare quelle che sono le imprese del territorio e dare professionalità adeguate alle esigenze del territorio migliorare i trasporti non si può pensare sicuramente nel 2024 di fermarsi sotto una pensilina e di aspettare mezzi che non passeranno mai un miglior collegamento alle aree interne con maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze delle aree interne i cittadini delle aree interne non possono pagare la continua centralizzazione continuiamo a mettere in campo cittadini di serie A e di serie B sono temi che abbiamo evidenziato nella scorsa legislatura sono temi che porteremo avanti e speriamo di vedere qualche infrastruttura realizzata perché nell'ultimo quinquennio tranne qualche rotonda non abbiamo visto assolutamente nulla Taglieri, molti italiani grazie al film di Milani stanno conoscendo più da vicino la realtà di alcune conseguenze della marginalizzazione dello spopolamento delle nostre meravigliose aree interne mi riferisco al tema del dimensionamento scolastico ecco c'è un altro Abruzzo che in qualche modo va rappresentato avvertite anche questo carico rispetto anche a temi a temi che poi anche attraverso le fiction diventano temi che l'opinione pubblica comprende e sulla quale è disposta comunque a difendere il proprio territorio ma cancellare e archiviare la nostra storia è totalmente una follia l'Abruzzo nasce dalle aree interne e non sulla costa naturalmente per esigenze degli ultimi anni tantissime famiglie si sono trovate costrette a abbandonare la loro identità ad abbandonare i loro territori ecco è arrivato il momento di invertire questa tendenza che si può fare attraverso la storia la cultura e il turismo valorizzarle perché valorizzare le aree interne significa raccontare la nostra storia raccontare la nostra regione io investirei molto in quella direzione che secondo me trova ampio spazio soprattutto su quelle che potrebbe essere un'alternativa un'offerta turistica che oltre a ridare lavoro in quelle zone dà la possibilità di rafforzare implementare quelli che sono i servizi e a quel punto diventa abbastanza naturale che le aree interne e la parte interna dell'Abruzzo torni a vivere ecco le facevo questa domanda come premessa dell'ultima che la sto per fare perché abbiamo discusso anche con altri suoi consiglieri dei pronti e l'insediamento sul fatto che proprio come proposto da Marsiglio questa possa essere una legislatura che soprattutto nella sua prima parte perché poi è molto più difficile cambi la legge elettorale lei personalmente il Movimento 5 Stelle che tipo di posizioni porteranno in aula su questo dibattito? Guardi torniamo a quello che abbiamo detto prima la politica delle aree interne dovrebbe essere rappresentata da persone che vivono le aree interne il collegio unico sicuramente non dà questa possibilità il collegio unico non permette di portare avanti politi come quelle nostre noi prendiamo cittadini che vengono dal mondo sociale senza aver fatto percorsi nel mondo politico per dargli la possibilità di portare nelle istituzioni quelle che sono le istanze lei immagini un collegio unico fare una campagna elettorale in un collegio unico quante risorse quanti soldi e forse diventerebbe per pochi e sarebbe un concentrarsi continuo nelle aree più popolose questo ancora di più penalizza le piccole realtà penalizza le rappresentatività delle piccole realtà penalizza la parte democratica di un territorio che deve essere raccontato dalla costa fino all'ultimo dei paesi più piccoli delle aree interne grazie grazie a Francesco Taglieri buon lavoro per la dodicesima legislatura appuntamento naturalmente alle occasioni nelle quali sicuramente torneremo a parlare di politica nei prossimi cinque anni grazie arrivederci grazie a tutti